Insalata di riso con Emare Mix e verdure fresche Versiamo il riso in una ciotola e lo reidratiamo con liquidi a pari volume In questo caso per caratterizzare il sapore di pesce utilizziamo acqua e liquido dell'Emare Mix Lasciamo reidratare per circa 45 minuti mescolando di tanto in tanto Una volta reidratato il riso aggiungiamo gli altri ingredienti Abbiamo le zucchine fresche, il sedano fresco, carote fresche e mais Per ultimo l'Emare Mix Mescoliamo Condiamo con sale, pepe macinato a mulinello, olio extravergine di oliva, succo di limone e prezzemolo tritato Mescoliamo e impiattiamo Decoriamo a piacere con una fettina di limone e piante aromatiche Completiamo con un filo di olio extravergine di oliva e il nostro piatto è pronto Grazie a tutti